Ciao Lino, Gianluca Delino della Stampa. Ciao, senti, la fascia di Duvant ha dato una bella carica perché ha fatto anche un gran gol. Purtroppo è servito poco. Volevo chiederti come prendete questa partita e da capitano come lavorerete per cercare di correggere quello che a questo punto è un difetto strutturale, cioè quello di una difesa che concede veramente troppi gol. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Sono orgoglioso, sicuramente che ho fascia di capitano, ma in campo dobbiamo essere tutti capitani. Dobbiamo aiutarci tutti quanti. Sicuramente dobbiamo migliorare per non prendere gol, perché abbiamo fatto secondo tempo due errori che abbiamo pagato subito, in quattro minuti. Alla fine abbiamo provato a pareggere la partita, ma il portiere ha fatto grande parata. Ciao Carol, sono qua. Innanzitutto le tue condizioni fisiche, come stai, visto che sei uscito con noie muscolari, immagino? Grazie, no, no, tutto secondo me tranquillo. C'era un po' di paura, ma tutto bene. La seconda cosa ti chiedo, come mai secondo te continuate nella fase difensiva, non voglio colpevolizzare solo uno o due difensori, ma nella fase difensiva a perdere l'uomo, a non essere abbastanza attenti. Credi che forse sia troppo complicato, e sia stato fin qui troppo complicato, rimettere assieme una difesa che è stata completamente cambiata in estate? No, secondo me no, perché prima in partita abbiamo preso pochi gol, prima in partita adesso prendiamo di più, facciamo errori che paghiamo subito. Cosa può mancare? Penso che concentrazione e cattiveria non prendere gol. Grazie.